Luca 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 lo cazzo Come ti chiami? Sono un piraco Mi viene a prendere che non riesco a guida della La macchina Comincio io Uno A caso Chat Whatsapp Gli dirà Di Che Hai Il Il Ciclo Ciclo Michael Quello di Michael Ever22 Ricordate anche di passare al suo canale che poi lo mettiamo in descrizione Ciclo Oii Michael ti devo dire una cosa Ciclo Eh oggi mi è venuto il ciclo Ti ringrazio Scruzzo 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 Lo Scruzzo Mai Oh Vai Il primo No Francesco Paolo Sono Vai Tu Chiedine Marco right Tu puoi stare, ragazzo, nel cuo Fa caldo Eh, ciao, c'è Marco? Eh, ma Marco c'è Sì, ma io sto cercando Marco No, non è vero, c'è un po' Benultimo il chiamato Eh, la BG Non ci parla Fuck, for that shit Dico in continuazione, come? Secondo me dici che l'agilizzazione è questa mano Devi dire in continuazione, come? Come? Come è stato? Ci sei? Come? Il primo è la lombra, cazzo, mette uno qua Fai il maniaco Francesco si chiama Uno è pesca, un altro Francesco, sempre l'altro cugino Ehi, come sei vestita Ma come sei vestita Dimmelo, dimmelo Ma famigotere Famigotere adesso, sto venendo Bene ragazzi, mi sono sputtato pesantemente Per questo gioco Cattivo Allora ragazzi Ci sono rimasti ancora molte penitenze E molti nomi Che faremo nel prossimo episodio Di questa challenge Se abbiamo Dieci mi piace E faremo il secondo episodio Ci vediamo al prossimo video Grazie a favore è tutto Grazie